buongiorno ceramica nel 2020 sarà una occasione veramente diversa per ritrovarci tutti qua da savona vi voglio dare un saluto di fronte all'ingresso del museo della ceramica che oggi come vedete è ancora chiuso siamo tutti in attesa di poterlo riaprire per poter godere di nuovo di questa fantastica collezione che è posseduta appunto dal comune di savona che insieme alla fondazione dei mari ha dato vita alla fondazione museo della ceramica in questo prestigiosa sede quindi noi abbiamo una ricchissima esposizione di ceramiche storiche ma anche contemporanee e infatti proprio in questo momento di chiusura si è attivato un una modalità di fruizione del museo diversa con i vocali d'artista gli artisti contemporanei che all'interno appunto del museo trovano nelle loro opere all'esposizione commentano proprio in questo momento difficile commentano con le loro voci le loro opere è un modo per rimanere vicini è un modo per non perdere il contatto appunto con gli utenti del museo e sarà un vero piacere poter riaprire le nostre porte per vederci speriamo al prossimo buongiorno ceramica con tutte le altre città a icc a cui porgo un cordiale saluto e speriamo di rivederci presto a savona la ceramica rappresenta l'espressione figurativa che maggiormente caratterizza la cultura l'arte anche le attività produttive della città di savona nel corso dei secoli ancora oggi sul territorio si trovano diffusi capillarmente molti segni significativi di questo rapporto abbiamo infatti ancora laboratorie e manifatture artigianali attivi complementi architettonici di redurbano abbiamo anche una serie di importanti musei che testimoniano la storia di una sicolare produzione di arte e di artigianato nel centro storico possiamo batterci in alcuni antichi palazzi che a tutt'oggi racchiudono al loro interno esempi di quei rivestimenti di ispirazioni spanomoreschi in mattonelle che venivano localmente chiamate laggioni che erano destinate appunto a rivestire i pavimenti e le pareti delle abitazioni dei nobili e dei ricchi mercanti nel corso del 4 e 500 tra così gli inserti più significativi in ceramica che si trovano nel nostro territorio voglio citare un unicum che è costituito dal tempietto Boselli si tratta di un monumento settecentesco di impronta neoclassica che era originariamente collocato sulla terrazza della dell'abitazione di Giacomo Boselli artista e ceramista imprenditore che aveva così sperimentato tutte le possibilità applicative della ceramica come è bene evidente da questo tempietto che ripropone un vero e proprio repertorio della materia dalla terraglia al biscuit alla maiolica. In via Paleocapa la strada principale della città si segnala inoltre il palazzo cosiddetto dei pavoni proprio a causa del freggio continuo in piastrelle di impronta liberti che ornano questo edificio. Passeggiando lungo le strade di Savona non è inusuale incontrare edicole che sono animate dalla rifugurazione della Madonna di Misericordia che è un oggetto di particolare devozione da parte dei savonesi. Sono così collocate soprattutto agli angoli delle strade con evidente scopo a pontopaico. Abbiamo anche elementi ceramici a ornamento di architetture soprattutto architetture dei palazzi che sono stati edificati nel corso degli anni 50 e 60, gli anni del boom economico dove appunto possiamo trovare ad esempio il rilievo di Antonio Sabatelli a fianco di un esercizio commerciale o ancora portali come quello di Achille Cabbiati con la raffigurazione dei mestieri oppure ancora pannelli in ceramica policroma di artisti come Leandro Sciutto che ha lasciato su palazzi di Savona per esempio un pannello con una scena a greste e un pannello con dei movimentati cavalli. Sul primo cornicione dell'antica sede medievale del governo degli anziani, la cosiddetta campanassa, sono stati collocati 12 stemmi in ceramica che rappresentano le signorie che si erano avvicendate al comando della città a partire dal XII secolo. Oltre a queste su questa facciata è stata inserita nel 1967 da Giacomo Reaimondi un'altra raffigurazione della Madonna di Misericordia. Un altro intervento così ornamentale in ceramica possiamo trovarlo lungo la scalinata che porta la biblioteca civica ad alcuni edifici scolastici sulle prime alture della città. Si tratta di un rilievo con Don Bosca tornato da fanciulli davanti a un altare dipinto così a tono di dascalico realizzato da Giuseppe delle Piane nel 1948. Ancora edifici pubblici come il Palazzo delle Poste realizzato nel 1927 si fregge al suo interno di ceramiche realizzate da Mario Gambetta e con un valore allegorico che rimanda appunto alle caratteristiche della posta e dei telegrafi. Molti sono i complessi religiosi della città che esibiscono elementi ceramici. Ricordiamo per esempio il riquadalustro del compianto sul Cristo morto che è stato realizzato alla fine degli anni 50 da Roberto Bertagnin sul muro perimetrale dell'Oratorio del Cristo risorto o ancora opera in terracotta della scultrice savonese Renata Cunio che così si è occupata dell'intero arredo della chiesa di San Ralfrede al Porto e anche dell'arto rilievo del santo titolare della facciata, del crocifisso, delle statue della Vergine e dell'angelo annunziante. Un'altra scultrice savonese che ha realizzato un intervento per una chiesa della città è Renata Galbiati che per San Giuseppe ha creato la crocifissione in terracotta, pannelli con la Vergine e il bambino e la via Crucis. Per quello che riguarda invece i musei che illustrano le vicende ceramiche del nostro territorio, nel palazzo della loggia è ubicato il civico museo archeologico della città. Il palazzo della loggia si trova nel complesso monumentale del Priamar e questo museo presenta reperti ceramici di età romana, del basso medioevo, islamici, bizantini, di importazione ed esempi di produzione locale e dei principali anche centri ceramici italiani. Nello stesso edificio del palazzo della loggia, all'ultimo piano, è ubicato il museo dedicato a Sandro Pertini e Renata Cuneo, dove possiamo reperire alcune opere in ceramica della scultrice savonese, appunto la Cuneo. Nel cuore antico della città, infine, è stato inaugurato nel 2014 il Museo della ceramica di Savona. Questo museo è praticamente il frutto di una felice collaborazione tra il Comune di Savona e la Fondazione dei Mari, che hanno messo a disposizione, proprio per l'allestimento del museo, le proprie ricche collezioni. Il percorso di visita è così accompagnato da un allestimento innovativo e pensato proprio per l'esposizione di un migliaio di opere, si dipana su quattro piani, con opere che vanno dal Cinquecento alla contemporaneità. Possiamo così ammirare piastrelle da rivestimento quattro-cinquecentesche, di cui abbiamo parlato prima, i cosiddetti laggioni, o ancora ceramiche ornate con istoriato tardo-rinascimentale, maiolico-orientalizzanti e per arrivare alla stagione d'oro della nostra maiolica, quella del barocco, conosciuta in tutto il mondo con appunto grandi richieste anche da parte di corti principesche, fino all'affermarsi della prolifonia settecentesca e arrivare alla rivoluzione artistica del Novecento. Nel corso del Novecento numerosissimi artisti del panorama internazionale sono venuti a cuocere nei forni di Savone Albissola e alcune opere di maestri che hanno operato nel corso del ventesimo secolo si trovano esposte in una sala del museo. All'ultimo piano, in un grande open space che valorizza così l'esposizione, si trovano importantissime opere di arte e design contemporanei che rappresentano un po' una finestra sul futuro per il nostro museo. Questo museo è attualmente uno dei più importanti italiani per la materia e rappresenta anche un centro di ricerca storica sul territorio per quanto riguarda le opere appunto del nostro passato, che ancora però trovano così una comunicazione nel presente, ancora un polo propulsivo di innovazione e progettazione per il futuro della celamica.